Bentornati, oggi voglio andare a rispondere a una domanda che mi è stata fatta sui massaggi. Esistono i massaggi sciogli grassi? Esistono i massaggi dimagranti? Bene, la risposta è no, non esistono i massaggi dimagranti, non è possibile con il massaggio andare a modificare la percentuale di grasso, ok? Il grasso non può essere sciolto attraverso un massaggio, quindi se il vostro intento è andare a scoprire le tecniche che vi permettono di dimagrire senza faticare, scordatevelo, non esistono e il massaggio e tutte quelle persone che vi vendono il massaggio dimagrante come la panacea per andare a perdere peso vi stanno fregando, il massaggio ha mille funzionalità, se avete tempo vi allenate fate dei massaggi, i massaggi vi permettono di recuperare meglio, l'allenamento permettono di migliorare la circolazione, ma non è il massaggio che vi fa consumare i grassi ma è tutto il resto, buon allenamento, una buona alimentazione, allora sì che il vostro corpo è predisposto per andare a consumare grasse, ma il buon allenamento richiede sacrificio, una buona alimentazione richiede sacrificio. Il massaggio è una tecnica da utilizzare per riuscire a trovarsi nella miglior situazione per andare a nuovamente ad allenarsi, recuperare gli allenamenti favorendo la circolazione sanguigna, ma non esistono i massaggi sciogli grassi, mettetevelo in testa.